...i nostri interventi, metto in curazione, dubbio bravo, autore del gioco. Se non ci sognate, salgo, autogia e pazza, mi dispiace, lei o di te? ...i ci sognate, si mi dispiace, non ci sape. ...e pazza, si non ci sognate, non ci sognate, non ci sognate. ...e non c'è la pace. Allora, allora, non sentiamo, non so di una bella, che così è il patro, è intervenuto, la trancezione del suo trato, e adesso un po' non è finito, se non è un viaggio di lui. La mia azione del cosiddetto patro, a nove del film, la patro, e ci sarà un patro, e avrete un espresso in suo corpo con il drago, sto accendendo, se ci sono altri imperventi, sacate, di consiglieri, di non c'è più intervenuto, verso la presa di una nuova ricerca. Presidente, 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 Giulio Nostizia, Per me, caro Presidente, vengo a vedere l'occasione per il nostro amministratore. Io, come ho detto, non ero un po' di intervento, tanto il terzo intervisto, l'alto atto di tecnicità, perché è il nostro contesto, che a un'altra del atto è la relazione fatta dalla sessore, e da qualche atto, a parte di dire, i consiglieri che si passano, Poi, caro Presidente, ho detto, un'attitudine. E in un contesto simile, io ho effettuato il volere di parlare, soprattutto, in a posto delle domande, credo che svegli avvento, in a posto delle domande, a cui qualcuno potrebbe avere il suo gusto, ma soprattutto a loro, a loro risposta. Ma come al solito, la fretta si prende, l'ansia si avventa, la fretta si riempie, e tu senti tutta la tosta, il senso, la lungcetta, di chiudere il Consiglio, con una cosa che si riempie, se ci abbia giocato, se ci abbia giocato, che ci sono. L'ansia si prende, che ci abbia giocato, che ci abbia giocato, che ci abbia giocato, che ci abbia giocato, che ci abbia giocato la vostra fiscina, mi abbia giocato. stanno avanti, ci sono un atteggio internazionale che sono stati qua a parte, dove praticamente questo è un atteggio di confronto di essere ammiettato, questo è un atteggio di carezza, e tu non puoi, con il tuo atteggiamento, con il tuo atteggiamento, giù questa pressione e magari c'è una efficienza di conoscere quale è il motivo a una parte, aspetta, allora, allora, è stata posta una domanda per ciò, ma è non possibile che la città dice che non mi va a votare, ha un inconvizzo, solo perché ci sveglia qualcuno e decide in sede di preparazione del Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio di e se ne prendevo la managra, perché prendevo il Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio, allora lo faccio, perché a me lo vedo con uno, e le dalle, lo sono ferose, che è arrivato qui a quella passione, in questa Italia, a un approfitto si cambia questo, a un approfitto leggiamo dai giornali che si vengono ignorati, così correnti, negativi, negativi e negativi, se ne prendevo tutto, basta, sotto, silenzio, siete tutti impegnati a guardare l'uno o l'altro della paura di essere sostituinti, perché vissi un punto, con questa valoranza, ma è mai possibile che il risultato fisico del Consiglio del Consiglio del Consiglio è un'altra questione morale, di specie, guardate, io ne dico una, che dovrebbe essere veramente una questione, che in un specchio a quella che la Consiglio del Consiglio del Consiglio generale si deve essere il lusso, non è la responsabilità, che prendevo il fuoco, come detto, alla primavera, di cambiare il regolamento del Consiglio comunale per consentire la massima del Consiglio 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 e bene, io ti ho raccontato il risultato che non c'è la faccia, le ho detto, perché un po' di me, io sono stati ancora partecipato alla Commissione, le erano fatte me in anno, tre Commissione convocato alla Presidente dove erano convocati, gli attenzioni e loro presenti, i dirigenti e i nostri presenti, c'era una discussione oggi, e questa è una che mi ha raccontato la sensibilità di cercare di capire cosa sta succedendo. E' stata portata ad una Commissione dove, veramente, per la loro, finito dopo tutti, tipo tre, sarete noi il Presidente, questo più grande, professionista, che è il nostro sindaco che ad located all'ordine che è presenti lo che si Pride e Sp настолько, perché spesso questo è un geregio proprio dipensa. Con grandissima sensibilità e rispetto di controllo delle sezioni e lei, dei vostri stavi, tutti i momenti presenti e non è una pronta! E non è una proposta quindi a fare dire per essereicenti, perché non è possibile Mentre, un anno e mezzo, noi partiamo a tre commissioni e tre posti che lasciano da voi a conferma della inubilità e delle sede che tra l'altro la cittadinanza. Sono argomenti, caro Presidente, che tutti i dati spazi di questo governo, adottavano la rossa delle mani e crescite, e qualcuno di questa cosiddetta naturale. Avete, dovete sentire, volvete parlare, non è possibile. Noi chiediamo su queste cose, questa è la vera rinunzione, indipendentemente dalla generazione di modi che è stata fatta, e si credo di essere democratico. Grazie.